That's a cool face, what a date Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Mazzi e questo è un funny glitch Uno di quei glitch divertenti, stupidini Che si fanno E niente Questa è in pratica come avete visto nel titolo del video La catapulta umana La catapulta umana in che cosa consiste? Arrivate qui nell'aeroporto Nel heliporto O comunque in qualunque posto dove c'è un elicottero E fate esplodere un elicottero Poi chiamate le estere che vi levate dal cazzo i poliziotti E qui incomincia il glitch in pratica ragazzi Che poi non è un glitch Come ho già detto è un funny glitch, una cazzatella E cosa dovete fare? Andate sulla coda dell'elicottero Qualunque elicottero, penso però questo sia il migliore Andate sulla coda dell'elicottero Vi appoggiate in punta dove sto andando io E sparate nella coda dell'elicottero Con la pistola, diciamo, segnalatore Con quella che lancia i bengala colorati Ecco io come mio solito A primo acchitto non ci sono riuscito Comunque ci ho già provato altre volte Mentre non lo ripistravo E' molto simpatico questo glitch Come vedete alcune volte vi lancia lontano Alcune volte vi fa stare diciamo vicini Poi dipende da come sta la coda dell'elicottero Però è molto divertente Anche perché vi spara abbastanza in aria E niente Questo è il glitch Nulla di particolare come ho già detto E' una cosina simpatica Da fare per cazzeggiare E niente di più insomma Eccolo qui Fatto con un piccolo saltino Diciamo Saltino Va bene ragazzi Per questo video è tutto Vi lascio al resto del video Un saluto da Maxi E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti